Sono piromani in campagna elettorale questi, sono piromani che cercano di avvicinarsi a un problema complesso così come uno armato in una tannica di benzina va davanti a un incendio. L'incendio c'è, è un incendio che purtroppo ha ragioni geopolitiche complesse, sofisticate, che non nascono certo dalle politiche domestiche sull'immigrazione di casa nostra. Basta guardare al di là del proprio naso, vedere come è fatto il mondo, dal Sahel all'Afghanistan, al Pakistan, al Corno d'Africa e immaginare di fare Donier Bonfacio rispondendo così vuol dire non aver capito niente del problema e rischiare, dando una risposta sbagliata, di strumentalizzare paure profonde delle persone.